Musica Michi di Lodi, Fanfulla TV, benvenuti alla Dossenina impegno difficile oggi per la capolista Cavenago Fanfulla che incontra il Città di Vigevano e con lo scambio tra Brugnoli e Laribi parte Cavenago Fanfulla Città di Vigevano subito il lancio di Battaglione, sponda di Mazzini, libera però la difesa del Città di Vigevano e Dalia ancora a Fal, prova il tiro, palo di Fal, subito dopo due minuti tiro dalla lunga distanza di Fal che copisce pieno palo Ballerini preferisce la palla lunga a cercare Colombi Brugnoli, dopo la spizzata di testa del capitano palla lunga per Fal, può arrivarci Fal non riesce a deviare Mazzini Zingari può portarsi il pallone sul sinistro, servito Odone palla messa in mezzo, Fal chiusura della difesa del Vigevano, grande occasione ancora per Fal all'ottavo tiro di Battaglino poi, finisce fuori pronto a ricevere Battaglino, servito, si allarga Colombi sulla sinistra Battaglino va da Fal, la mette giù, Fal, può puntare, arriva Colombi buona azione per il guerriero Campieroni attaccato da Di Sarò, allarga per Colombi pressione di Bonvini, Colombi gioca per Romano che rilancia cercare Fal, Fal può partire, allunga la palla per Mazzini non c'è fuori gioco, Mazzini a tu per tu con Campieroni Mazzini 10 sul cronometro, guerriero avanti 1 a 0 ancora il bomber Mazzini arriva Colombi in sovrapposizione, Fal, servito il capitano palla messa in mezzo, Mazzini non ci arriva, palla che termina sul fondo soliti 4 giocatori sulla linea di porta, parte Battaglino Campieroni, palla che rimane lì salvata sulla linea e poi c'è fallo, poi c'è fallo uno schema, arriva Colombi la mette in mezzo di prima, l'arribi di testa palla che finisce alta arriva Colombi in sovrapposizione Brognoli Brognoli può provare il tiro da lì se la porta sul destro, serve Battaglino buona la palla per Brognoli esce però Campieroni che anticipa il numero 8 del guerriero chiuso poi da Dalia palla che però rimane lì, Brognoli traversa di Brognoli fuori gioco però segnalato fuori gioco palla messa in mezzo da Colombi Mazzini riesce a toccarla grande parata di Campieroni sul primo palo Bonvini chiuso da Battaglino arriva anche Oddone Bonvini riesce comunque a mettere il cross Romano di testa Battaglino di prima arriva però di Sarò prova anche il tiro di Sarò Ballerini fallo servito da Colombi fallo, cerca la palla per Zingari ottimo il pallone per Zingari c'è Mazzini in mezzo Zingari cerca di rientrare sul sinistro è chiuso, palla messa lì Colombi è fuori gioco fuori gioco di Colombi ancora Battaglino c'è Colombi largo palla che arriva a fallo servito adesso Colombi palla messa in mezzo per Mazzini che di testa prova a metterla sul primo palo Campironi ottimo intervento nuovamente fallo adesso prova il tiro a giro ancora Campironi Battaglino recupera cerca di lanciare Mazzini D'Aglia non riesce a intervenire Mazzini ultimo tocco di D'Aglia svanisce l'occasione del 2-0 per il guerriero il 43esimo pronto a partire Battaglino per quella che sarà l'ultima occasione di questo primo tempo parte Battaglino palla bassa Mazzini riesce comunque a agganciarla indirizzare per Laribi palla che si allontana poi dall'area il direttore di gara con gli fischi alla fine di questo primo tempo 1-0 per il guerriero tra poco per la seconda frazione e parte in questo momento il secondo tempo di Cavenago Fanful a città di Vigevano ricordiamo guerriero avanti 1-0 grazie alla rete di Mazzini Laribi Zingari si allarga fallo sulla sinistra Zingari porta palla centralmente cerca la palla per Mazzini che lascia scorrere per Laribi può mettere il cross in mezzo Laribi palla messa in mezzo fallo fallo si rialza col tacco Campironi gran parata ancora poi fallo cerca Colombi partirà con una punizione per il guerriero già partuta da Zanoni buona la palla per Mazzini Mazzini da solo davanti a Campironi Mazzini 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 Campironi poi la palla rimane ancora in gioco pronto Battaglino 6 giocatori del guerriero pronti a entrare in area parte Battaglino palla corta sul primo palo Mazzini la tocca Campironi però palla di Ebole pronto a partire di Sarò tutti i giocatori sul secondo palo palla che rimane lì parte di Sarò palla che supera la barriera Ballerini Mazzini Mazzini si gira Palmieri arriva Brugnoli in sovrapposizione gran palla di Palmieri però per Mazzini Campironi ancora ancora Campironi su Mazzini per la quarta volta Bratto Palmieri recupera palla senza fallo Palmieri si cerca la profondità Palmieri cerca di superare Dallia lo fa adesso palla per Battaglino che prova il tiro palla che finisce alta Palmieri è partito Brugnoli servito timamente da Palmieri Brugnoli arriva sul palone punta Bindapienti Brugnoli può andare sul fondo palla messa in mezzo non arriva fa l'intuffo bravo Dallia a spazzare Patrini intanto squalificato segue i suoi compagni dall'esterno del campo pronto di Sarola battuta parte il numero 6 del Vigevano palla sul secondo palo esce però Ballerini ancora sicuro Ballerini rilancia del numero 1 del Cavenago Fanfulla Palmieri arriva prima Baratto poi Laribi non c'è fallo la Gognigore di testa El Faria la mette giù col petto attaccato da Palmieri adesso da Laribi recuperano i due centrocampisti del Guerriero servito Brugnoli sulla sinistra parte Brugnoli assistito da Fall Brugnoli chiuso da Di Sarò Brugnoli cerca comunque il cross di sinistra palla arriva Fall grande azione di Brugnoli colpo di testa vincente di Fall 2-0 per il Guerriero bravo bravo però Cudicini a portare via il pallone Sisse palla lunga poi cercare Salomoni Colombi di testa non perfettamente Salomoni Salomoni Lago Nigro riesce a toccare battagli non recupera un altro pallone c'è Sisse largo Sisse palla messa in mezzo Colombo anticipa Caselli Sisse Parodi Palmieri Palmieri si porta la palla sul sinistro Palmieri prova il tiro Colombo poi battaglino la mette giù Sisse Sisse per Nikolov Nikolov si porta la palla sul sinistro finisce a terra non c'è niente per l'arbitro si continua Brugnoli prova il tiro Brugnoli Colombo finisce qui 2 a 0 per il guerriero che batte il Città di Vigevano e rimane in vetta alla classifica altra bella vittoria del Cavenago Fanfulla che batte 2 a 0 il Città di Vigevano e rimane quindi in testa alla classifica decisive le retti di Mazzini nel primo tempo e di Fal nella ripresa da Lodi per Lodi Fanfulla TV Nicola Agosti linea allo studio per la assured Grazie a tutti.